Salve a tutti, sono io con il Salone Italiano Parlamo di chiaro, ora si parlerà di educazione, per quale motivo? Perché? L'educazione viene a prova contraria, ma deve non insegnare ai vostri genitori Però, per quanto ma riguarda, la gente al giorno d'oggi non c'è più questa educazione Per quale motivo? Beh, perché tutto sommato, in fin dei conti, un saluto Non se ne ca nessuno, no? Buongiorno, buonasera, salve Fino a prova contraria, se io ti saluto, tu, le conseguenze mi dovresti rispondere, no? Se io dico buongiorno, e l'altro ti dovrebbe dire buongiorno Buonasera è uguale, devi rispondere buonasera Arrivederci, arrivederci, salve, come sta? Invece voi no, visto che siete ignorati Ma, può darsi che pure gli genitori vostri che l'hanno insegnata l'educazione, eh? Può darsi Ma non so sicuro Può se non vanno insegnata Voi potete diventare educati Capito? Educati col prossimo Perché? Per quale motivo Cioè voi non salutate proprio Capito? Quando mi è capitato mu, no? No, vabbè, vabbè L'altro giorno, no? Mi ferma uno, dice Eh, ma te Siamo a stare lì a tagliare Complimenti T'ho visto T'ho visto sulla trasmissione Su Capito? Ma ricordate la trasmissione, quella che ho cantato Dice Complimenti per la tua esibizione Mi ha fatto piacere conoscete Vabbè Oh, dopo due giorni via, rincontro A un bar, no? Mi sa, pia, cornetto Allora, io faccio un Guarda Io mi la riguardi Io faccio un buongiorno Sapia che porta la faccia A streuzza Questa volta col cavolo che te saluto Ignorante, ha un fame Se fa così Poi c'è stanno quelli di là che praticamente stanno dentro i palazzi Che tu gli dici buongiorno Ci stanno le persone quelle un po' anziane che te rispondono, no? Ma mica sempre, mica sempre Perché pure quelle certe volte Sono ignorante e fragiche Invece ci stanno proprio certi, capito? Scendi con loro dall'ascensore Ti rispondono proprio Pieno Ah, poi ci stanno quelli Che vuoi dire che fa? Quelli che praticamente quando vi vedono Quando vi vedono che tu dovresti salire Con l'ascensore a casa tua Pieno e chiudono subito la porta E salghiano Mica ti aspettano Comunque ricordatevi una cosa L'educazione è al primo posto Non fatele ignoranti Ricordatevi E poi se i genitori vostri vanno insegnati all'educazione Usatela Non fate che bene si è Capito? Ricordatevi E il saluto Non se nega a nessuno Capito? E il saluto E il saluto E l'educazione Fammi te la capire Se ne temo Ciao regà Saluto a tutti